Arresti e perquisizioni nella provincia aquilana dalle prime ore dell'alba da parte di oltre 50 agenti di polizia di Stato. Nel corso dell'operazione denominata Fake Jobs, 11 arresti. Gli indagati promettevano un lavoro agli stranieri attraverso l'ottenimento di un regolare visto d'ingresso, ma una volta giunti in Italia gli extracomunitari non venivano assunti. Gli agenti della squadra mobile della Questura dell'Aquila stanno eseguendo le misure cautelari in carcere predisposte dal giudice per le indagini preliminari Marco Billi su richiesta dell'EPM della DDA dell'Aquila, David Mancini, nei confronti di altrettanti indagati, 5 italiani datori di lavoro e titolari di aziende agricole e 6 stranieri che facevano da intermediari con i loro connazionali. Secondo quanto emerso dalle indagini dal 2009 ad oggi era stato messo a punto un meccanismo ben collaudato che consentiva dietro pagamento di 7.000 euro a persona di ottenere un falso posto di lavoro utile all'ottenimento del permesso di soggiorno. Gli immigrati erano tutti di nazionalità bengalese, pakistana e marocchina. Gli extracomunitari erano fatti arrivare in Italia, in particolare ad Avezzano e nei comuni della Marsica attraverso i flussi migratori disponibili nel corso dell'anno per l'assunzione di lavoratori stranieri in aziende agricole. Giunti in Italia però la mara sorpresa perché i cittadini stranieri devono pagare appunto 7.000 euro ai fittizi datori di lavoro o ai loro intermediari senza ovviamente ottenere alcun lavoro ma solo la possibilità di permanere nei confini italiani. Le indagini sono partite da una denuncia sporta nel 2010 da una donna dell'ambasciata di Islamabad in Pakistan. Gli investigatori hanno evidenziato ben 259 richieste riviste d'ingresso, tutte finalizzate a delle false assunzioni. Di qui l'indagine che ha portato all'arresto di 11 persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta.